Sono a Crotone, la serata è meravigliosa, guardate che luna, meraviglioso come sarà il Capodanno. E ufficiale, sarà a Crotone il teatro dello storico Capodanno Rai con il programma L'anno che verrà. A comunicarlo direttamente sui propri canali social è il presidente della regione Calabria, Roberto Chiuto, durante un sopralluogo notturno nella città pitagorica. Dopo la conferma che il Capodanno Rai 2024 si sarebbe tenuto in Calabria, adesso svelata anche la città che ospiterà il grande evento, una grande opportunità per far conoscere tutti i territori calabresi. Sono qui in riunione col sindaco, col presidente della provincia e con i dirigenti della Rai. Abbiamo vinto ogni resistenza, il Capodanno del 2023 per la Rai in Italia si farà a Crotone, sarà una grande occasione per promuovere la Calabria e soprattutto questa bellissima provincia sempre troppo poco considerata persino dai calabresi. Buonanotte a tutti!